ha 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 baby tv kenny guri dove siete? kenny ti ho visto ma dov'è guri? ciao guri kenny e guri ehi ma cosa state bisbigliando? voglio saperlo oh è una sorpresa bene adoro le sorprese ok sono pronto due porte a che cosa servono queste porte? un paio di calzini ma che cosa state costruendo? forza guri tira fuori qualcosa dal marsupio una maglietta mi domando cosa possa essere e adesso kenny tocca a te tirare fuori qualcosa dal marsupio penso di aver capito di che cosa si tratta lo sapevo lo sapevo era facile è un armadio ora abbiamo lo spazio dove mettere i vestiti ottimo che bella sorpresa aspettate guri kenny dove state saltellando? oh che peccato il gioco è terminato ciao guri ciao kenny ciao guri e kenny ci vediamo domani per giocare ancora ciao Grazie a tutti!